Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video su Dragon Ball Butukai Tenkai G4 ovvero ragazzi siamo nel torneo per battere il Mr. Satan io vi ringrazio veramente di cuore per avermi lasciato tantissimi like e tantissimi commenti negli ultimi video che ho postato veramente ragazzi grazie di cuore continuate così lasciatemi sempre un bel pollicione sotto a questo video e lasciatemi sempre un commento e condividete questo video con i vostri amici e ora possiamo iniziare al torneo di Mr. Satan allora l'ultima volta avevamo fatto l'ultimo torneo con Gone Beast adesso vediamo se possiamo ancora scegliere un personaggio il livello di difficoltà rimane sempre la stessa ovvero 2 stelle adesso qua ci troviamo partendo del torneo mondiale di Dragon Ball Super allora dobbiamo scegliere attentamente dei personaggi vedo che qua ce ne sono 2, 4, 6, 8 caselle adesso non so se dobbiamo scegliere 4 personaggi lo scopriremo presto a questa volta ragazzi visto che siamo nel torneo mondiale sceglierò Goku Ultra Estinto normale ah devo scegliere solamente un personaggio pensavo se ne sceglie di più ah ragazzi ho visto nei commenti che avete notato che negli ultimi video avete trovato un po' di lag nei video questo perché ho sbagliato impostare su OBS l'ho appesandito e così facendo si laggava un po' adesso l'ho risolto e quindi non li lagga più quindi vi preoccupate ragazzi i video d'ora in avanti saranno tutti fluidi comunque se avete sempre dei problemi vedete qualcosa che non va io accetto tutti i vostri suggerimenti quindi vi preoccupate commentate e fatemelo sapere anche se sente l'audio bene oppure c'è qualcosa che non va non sentite voi ok torneo mondiale ragazzi wow bellissimo questo qua mamma mia che splendore questo gogo trust in quanto è soldatino secondo me è forte questo soldatino eh immaginavo eh volevini eh sì beccati questo ah non l'ho preso non l'ho preso si spalle oh sì gogo che vuole oh il badug attento mamma mia Quello lanciarazzi lì è pericoloso Oh, volevo fare un'altra mossa Invece Oh ragazzi, basta che non gioco Un paio di giorni A Dragon Ball or a Tenkai C4 Già Sembra che mi sono un po' arrugginito Ecco, prendi questo Non so troverai mai Goku Non lo sottolotare perché adesso Ti do una bella mossa Ah, non ti ho preso Niente ragazzi, non riesco a bloccarlo come prima Aia Dietro le spalle non va bene Oh, siamo alla stessa valita di vita Meno male che sono un essere umano Annaccia Non sto combattendo come vorrei No, addirittura Che cosa ha fatto Ok, tu sei oltre stente Dai Mi sto uccidendo ragazzi Se non faccio subito qualcosa Ho perso il primo incontro Ho perso il primo incontro Ah, ok Ok Però sto facendo già brutta figura Già con Goku Ok ragazzi In questo incontro ho fatto un po' brutta figura Con il General Blue Ma L'ho scambata bene E da un paio di giorni che non gioco a Tengashi 4 Già sembra che mi sono un po' arrugginito Quindi adesso cercherò mal mano di risolvere il problema Della abilità Yajirobe Ok Contro Yajirobe Ci siamo ragazzi Contro Yajirobe Eh non corro Amico mio A pensare a queste cose Sono stati amici da piccoli Ecco Così ti voglio Ah, ora si Combo E attacco speciale Nel frattempo ci carichiamo Vai Goku Così Oh Sto squadaccino qua Eh bravo Così ti voglio Goku Gamiamià 6300 di danno Non male No No piccolo Ah volevi eh Volevi Oh Scusate Stai qua Ah Ah mi ha preso Ma quando mi ha tolto Tutta la barra Perché fai questi attacchi Non è quello che vuoi Così Questo vuoi Blocca Oh Oh Ci è mancato poco No Amico mio Stai esagerando Ti Becchi di stacca A me E abbiamo vinto il duello Ragazzi Contro Yajiro Yajirobe Ha perso l'incontro Con l'ultra estinta Allora Qua vedo dei personaggi Non Wow Il finale Ah però Il finale c'è Giren Ok Qui devo stare attento Adesso già c'è Baby Vegeta Già un po' più forte Lui Va bene Non ci faremo scoraggiare Quindi vinceremo anche questa partita Ragazzi Se sentite un po' la mia voce Che è un po' rauca Perché c'è un po' mal di gole Scusatemi Ma in questi giorni Non sono stato molto bene Ecco Ragazzi Nel torneo Tutto spappolato qui Nelle terre Del torneo mondiale Baby Vegeta Vediamo se riesco a prenderlo No l'ho preso Non carichiamoci Vediamo se vuole fare qualcosa Ma è tempo di combattimento Come? Mi ha vinto lui? Questa storia Com'è sta storia? No Mi ha appena bloccato Mi ha appena bloccato Chi è il back di questo? Cambiamo in un altro sintomo No No Mamma mia Ma quello è bloccato Mi rendete conto Però c'è ancora attivo Non so come la Ah no Le prese Si sta pure trasformando Attenzione Ok Quasi fa seria la cosa No No Questi attacchi del cavolo No Sai cavolo Ma c'è Eccetera Oh Mamma mia Devo stare attento Ragazzi Devo stare attento Che quasi stanno su una cosa Molto seria Ok Ok La suprema L'ho preso Vediamo quanto danno Li tolgo Ok 15.000 Non male Non male Carichiamoci ancora 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 Finando a ottenere La massima potenza Un colpo Mi ha preso pure E così Bravo Goku Così ti voglio Oh Mi ha preso Fino alla fine Ragazzi Oh mamma mia C'ho paura C'ho paura Così Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Meno male E abbiamo sconvitto Anche Baby Vegeta Baby Vegeta Già mi ha fatto sudare Adesso contro Devilman Ok Sta arrivare Devilman Ok Vediamo Sì Devilman è proprio lui Ragazzi È proprio lui Ho visto bene Ok Speriamo che Questo Devilman Può fare Brutte figure Ci siamo Goku Ultraistindo contro Siamo pronti Carichiamoci E prendiamolo subito A lui scappa Oh Attenzione Subito Vai Goku No Ancora Preso Eh Qua la cosa Qua la cosa È complicata Sì 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 Quando tu scherzi con lui C'è più difficile Bene Così Così ti voglio Il Goku Concentrato Eh però Manaccia No ma l'ha pure Schivato Dai Come sta storia Ok Beccati questo Vai Facciamo la suprema Prendiamolo Eh vai L'abbiamo preso Ragazzi L'abbiamo preso Vai Kamia Mia Distruggilo Madonna Che danno 15.000 Ragazzi Non sono pochi Non sono per niente pochi Io Aumenterò la massima potenza Ma l'ha fatto anche lui Allora Dove stare attento qua Qua faccio fatica Ah Faccio sempre fatica Qua Dai Dai Goku Facciamo l'ultra Estinto Di Kamen Preso Sì Ragazzi L'ho preso Ma bella questa mossa qua Quanto gli va Vicino gli spara questo Kamia Mia Super potenziato All'ultra Estinto Abbiamo vinto ragazzi Eh con Goku non si scherza Bene Sconvitto Devilman Adesso Si fa seria la cosa Vero e proprio Contro Giren Ragazzi Giren È tosta È tosta È tosta Gira Contro Goku Ultra Estinto Che finale E qua Il torneo Cioè L'arena Si è proprio Frammentato Grazie all'attacco Di Vegeta Che è esploso Tutta L'arena Ma Goku Mostra la sua vera potenza La sua massima potenza Di Ultra Estinto Vediamo se riesce a tenere testa Agire Oh No Non mi fa ripare Mamma mia L'ha preso lui Prendilo Goku Mannaggia Ancora non l'ho preso Ancora non l'avevo preso Agia Sono talmente concentrato Che Faccio fatica Meno male Non l'ha preso Agia Ok preso Preso Vai Prendilo Goku Prendilo Ah Non l'ho preso Ma come sta Storna Prende lui Sempre No Ah si Non l'ha bloccato Sto bloccato Vai prendilo Goku Oh Ok l'ho preso Ho preso Ok La cosa si fa interessante Ragazzi Ok Noi sono andato via Carichiamoci al massimo Carichiamoci al massimo Un po' Sto a caricarsi al massimo Però Non lo faccio fare Com'è sta storia Aha Ah Anche lui ha fatto la Suprema Mamma mia Vediamo se riesco a prendere Prima di lui ragazzi Ok l'ho preso L'ho preso 15 mila di danno Non so se gli farà male Gli dobbiamo tutte le energie Ma non credo Che la bellaccia dura Infatti Fino alla fine Bravo Goku Massimizzato Triangle Cerchio X X Cerchio Cerchio Ah Ma l'ho fatto No No Ma l'ha fatto ragazzi L'ha fatto Supremo Prego Ok Non mi ha fatto niente Dai ragazzi Un colpettino Ok Ho vinto ragazzi Con un colpettino Di colpi d'aura Sono riuscito a sconfiggirlo E quindi Abbiamo vinto il torneo mondiale Contro Con Goku Ultra Estinto Goku Ultra Estinto E vincitore E si ragazzi Abbiamo la vittoria in pugno Goku ha vinto il torneo Quindi abbiamo ricevuto 6 mila zeni E anche le Super Dragon Ball Ah bello Bene ragazzi Grazie per essere rimaste Fino alla fine del video E vi ricordo sempre Di lasciare un bel pollice Nel su Di condividere questo video Con i vostri amici E noi ci vedremo In un prossimo video Sempre su TenkaG4 Quindi Alla prossima Ciao E tu non dimenticarti Di iscriverti Ti suggerisco Di vedere questi video Sopra di me